Ciao a tutti ragazzi e come al solito sono Frankie ed oggi sono qua per questo nuovo video sempre su GTA 5 Siamo su questo video dove voglio farvi vedere una missione di gioco che non contiene spoiler perché è una missione divertente L'ho trovata abbastanza divertente perché succederà un casino assurdo e quindi niente vorrei farvela vedere Quindi fatemi sapere con un mi piace e con un commento se volete vedere altre missioni che magari non contengano spoiler Tra un po' farò un colpo in banca diciamo un altro colpo e quindi ve lo farò vedere così Visto che nei commenti dello scorso video mi avevate detto di fare colpi in banca o insomma altro Tanto ci sta un botto di roba da fare su GTA quindi Guardate adesso quando si arrabbia E adesso e adesso che parte l'inseguimento Oh attenzione allora il nostro obiettivo è raggiungere l'aeroporto prendiamo tipo la prima macchina da supercorsa Ok siamo partiti allora poi qua adesso parte una musichetta di sottofondo troppo epica Se c'ho un modo ve lo alzo al massimo L'audio di gioco così lo sentite Allora è una cosa spettacolare sta missione vedrete tra poco il casino che succederà E sono molto contento perché questo gioco ha tante missioni David che cavolo vuoi Che cavolo vuoi David Ah qua poi ecco qua si vedranno le mie abilità in corsa Così vi imparate a dirmi che io faccio schifo nella corsa Mo voglio proprio vedere quello che dite Mamma mia per ora ancora nessun problema di macchina Quindi cioè dovete stare anche un po' zitti eh Cioè siete anche un po' vergognosi ad accusare me Dicendo che io non sono bravo a guidare Ma siete una vergogna incredibile Comunque Comunque Le cose importanti Perché scommano troppo ste macchine Sgommano troppo E pensare che Pensavo che forse questa cosa non fosse stata più Eh certo no andiamo fuori strada Bravo Frankie Bravo però tutto rimane normale E' perfetto Dosa un cavolo di camion Schifoso Vai scusate io passo Anche se c'è il semaforo rosso Che storie Che storie ragazzi Comunque sia Non contiene spoiler sulla trama Cioè Diciamo nel gioco ci sono delle missioni che Vengono fatte dai Sempre dai personaggi Però non hanno nulla a che vedere con la storia principale Ve lo posso garantire Comunque Vediamo un attimo Che ci dice Questo ragazzo Allora Cerchiamo di guidare un po' più veloci Perché Ecco insegui Molly Ok adesso so Cavoli tu hai Molly 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 quella dell'aspirina Oh la polizia Sirina shoots Eh vai caddi di sotto Scortarla fino all'hangar What? Vabbè Tiene premuto per visualizzare Oh attenzione La telecamera Della tizia Guardate Io cerco di intravedermi Dalla Ed eccoci dentro l'aeroporto Ragazzi Cosa spettacolare Guardate che spettacolo Dentro l'aeroporto Intanto sono partite tutte le stelle Oddio Poi ragazzi Esplosione a go go Io non capisco dove devo andare Oh di Bo 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 Ok di qua Di qua Di qua Di qua È una cosa epica ragazzi Qua Fucce Fucce Ma Ma Si Si io sto andando alla parte sbagliata Eccola la Molly 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 Attenzione Bo Oh Che giro Oddio Bello Bello Eccolo qua Aereo Inseguimento invade la pista Del Los Santos International Addirittura Guardate che spettacolo ragazzi Gli aerei che arrivano in pista Ma Non avete mai visto una roba del genere Poi è tutta corsa No Con la polizia che vi insegue Questa ragazzi è l'epicità Oddio Oh my godness Forse è meglio che mi sposto Ok Ferma l'auto signorino Ferma Bisogna fermarla Intanto qua Sempre la ripresa dall'alto Perché giustamente Ma dove sta andando Qua decogliamo noi Perché alla fine È una cosa micidiale Bo Bo Attenzione Oh Si è fermata finalmente E poi se Ma Non voglio ucciderti Ma chi lo sta dicendo Corri 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 Che simpatica È morta Che schifo Schifo È morta ragazzi Che ce ne volete fare Lei è stupida Semina gli sbirri Oh Secondo voi Frankie Oh ma chi Zitto Che io sono troppo Bava a sparare Muori Muori Ok Dobbiamo seminare gli sbirri Ma li semineremo In grande stile Quindi sull'aereo Eee Sull'aereo Comunque Partiamo subito Prima che arrivi Dio quanti poliziotti God Come fanno a spararmi Che sto dentro l'aereo Va va a far culo Via 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 oh madonna santa Decolla Ho detto decolla Porca troia l'ala È andata l'ala È andata l'ala L'inseguimento non va più Ah Continuiamo senza un'ala Se esplode mi sparo Continua questo inseguimento Ragazzi Il best inseguimento è Oh Questa È le cose del futuro Un aereo che funziona Si succhia Ci sta un aereo là Ok Si è buggato il gioco Ah Che bello Sono sotto la mappa Ragazzi Bello 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 sto gioco ragazzi Forse una pace Ma così eh Una pace ci starebbe pure Comunque Corriamo verso quel simpatico aereo Eh lo so che tu non hai fatto niente Ma Eppure sei entrato E' una cosa che non ho mai capito Se tu entri dentro l'aeroporto Ti arriva la polizia Perché Perché Boh vabbè Comunque Decolla Si dai Tra 40 anni Si No lasciati uccidere Parca toia Muoviti 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 Ok Adesso ora o mai più O decolli ora o mai più Ci siamo buggati Abbiamo fatto qualsiasi cosa Oh Via Via Mazza che velocità sto aereo Via 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 E vabbè Eh siamo volati Guardate Guardiamoci il paesaggio In volo Visto che comunque sia Ti guardate Tutto l'aeroporto Tutta la roba Fashions Eh ragazzi Che bella Lo sento Sì Una bellissima città Molto bella Molto Molto ben fatta Guardate che spettacolo Guardate Guardate L'avete visto che spettacolo Che spettacolo Ragazzi Che spettacolo Ma l'avete visto che spettacolo Beh ragazzi Io direi che È arrivato il momento Di Di finire questo video Visto che la missione Ormai è terminata Quindi Se questo video vi è piaciuto Se questa missione Vi è piaciuta A me È piaciuta Quindi ho detto Perché non farci un video Poi naturalmente Se avete consigli Idee Scrivetemele sempre Nei commenti Per ora Vorrei un attimo Fare qualche video Su GTA Poi ritorniamo Alla normalità Facendo anche video Su altri giochi E Per il resto Se questo video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare Un bel mi piace E noi ci rivediamo Ad un prossimo video Cioè Non so se avete capito Proprio al prossimo video Perché dopo questo Ci sarà un altro video Sicuro Ci vediamo quindi Al prossimo video Come sempre Dritto per dritto Ma guardate Che cosa succede Si sta per fare molto male Si è fatto male Al prossimo video Come sempre Dritto per dritto